La gara non si era giocata per consentire alla rappresentativa di Serie D di partecipare alla Viareggio Cup. L'Azic deve rinunciare a Del Prete influenzato ed inizialmente in panchina e manda in campo al suo posto Sperandeo. Il tecnico Mandragora si affida al tandem d'attacco formato da Manzo e Trofa. Pronti via e Manzo e Trofa si rendono pericolosi al dodicesimo e al quattordicesimo, ma Zimbask è attento. Alla mezz'ora Itzo è costretto ad uscire per infortunio e al suo posto entra Del Prete. I rosso-blu sembrano Pindra Prendenti. Al trentaduesimo sulla conclusione di Albino, incarnato e bravo a deviare la conclusione sul fondo, ma sul conseguente tiro dalla bandierina l'estremo difensore Campano si supera sul colpo di testa di Marziale. Nel filale di tempo si rivede Lischia, prima con Reinone ed Ercolano che si lascia anticipare da Zimbasky. Nella ripresa il terreno reso pesante dalla pioggia non permette alle due squadre di sviluppare le proprie manovre d'attacco. La gara cala di intensità e le azioni degne di nota si riducono all'unicino. Al venticinquesimo Albino calcia dalla distanza su punizione e la palla va alta sulla traversa. Sull'altro fronte al ventisettesimo provvidenziale l'uscita di Zimbasky sul manzo. Nel finale i Sinici provano ad attaccare ma senza grosse emozioni ed il risultato non cambia. Finisce 0-0, un punto che permette però a Francavilla di balzare in piena zona play-off. Tutte e due le squadre oggi erano penalizzate su questo campo. Io dico che complimenti ai miei ragazzi che con questo campo partite da fare era quella. Abbiamo fatto dal primo al 94esimo e questi ragazzi ci credono e abbiamo fermato questo Ischia che è una squadra veramente fortissima però oggi se si doveva dire chi è la squadra più forte in campo eravamo noi. L'unica cosa è che è mancato il gol. Mancato gol perché con questo campo chi fa gol vince la partita. Infatti loro hanno creato qualche mischia in più e qualche mischia noi altrettanto per questo. Sono contento del pareggio pure se sicuramente volevamo la vittoria. Adesso siamo dentro, pari con campagna. Bisogna adesso non molare con questo Gaetta che viene da noi. Domenica un'altra partita in casa. Per questo bisogna sfruttare adesso questa occasione contro il Gaetta. Bisogna vivere la giornata e cercare di dare il massimo come oggi, come domenica scorso. Per questo questi ragazzi stanno lavorando bene. Io spero che i frutti alla fine si vedranno. Sicuramente l'obiettivo nostro è play-off. In questo momento sicuramente non pensiamo più alla salvezza sicuramente. Però adesso bisogna dare dentro, non bisogna molare. Bisogna giocare come domenica, come oggi che su ogni palla ragazzi sono stati sempre decisi, hanno vinto tanti contrasti. Perché sicuramente in Serie D con questi campi se non si mette il cuore non si va lontano. E questi ragazzi stanno mettendo veramente il cuore. È stata una partita molto maschia. Purtroppo più di così non si poteva fare. Abbiamo fatto un'ottima gara secondo me. Abbiamo combattuto su ogni palla. Penso che il pareggio sia risultato più giusto.